... Dopo l'esperienza dello scorso anno con il cast di Carmen, sabato nel giorno di San Valentino si è svolto a sorpresa un altro flash mob lirico tra gli scaffali del centro commerciale Ocean a Bellocchi di Fano. Lo scopo è stato quello di invitare la cittadinanza in un modo divertente e originale al Teatro della Fortuna il 12 e 14 marzo prossimo quando andrà in scena l'Elisir d'Amore di Donizetti. L'opera tra lo stupore dei clienti è stata promossa nel corridoio centrale del supermercato da Dina e Dulcamara interpretati dal soprano Laura Piermattei e dal basso Ignazio Pucci. 12 e 14 marzo l'Elisir d'Amore, Saverio Marconi regista, Ranzillotte direttore d'orchestra ma soprattutto il coro di Fano che ringraziamo, il presidente del coro che è stato gentilissimo anche oggi a darci l'ok per utilizzare due cantanti che ringraziamo e noi facciamo un appello a tutti i cittadini, i fanesi veniti a teatro che sarà una bella cosa e poi se si divertono i ragazzi vuol dire che a teatro ci si diverte tutti. A far loro da cornice le coreografie di circa 50 ragazzi della scuola media Padalino accompagnati dalla professoressa di musica Maria Teresa Fazio. Io dico sempre loro che la musica in generale, la musica classica è un pochino più difficile da ascoltare ma siccome io provengo da quel mondo perché ho studiato canto ci provo e questo può essere un buon modo eravamo partiti 15 per classe e adesso sono venute le classi quasi per intero quindi sì mi sembra che sia un ottimo modo e ringrazio per questo la fondazione teatro in particolare. L'opera dunque si fa popolare grazie anche alla collaborazione del maestro Giorgio Caselli. Sicuramente molto divertente, faticoso ma divertente anche perché per molti la lirica era qualcosa di sconosciuto le abbiamo spiegato brevemente quello che era il duetto e si sono subito appassionati.